C'è un esercizio quando parliamo di tricipiti che è veramente l'esercizio più ignorato, più disdegnato, più deriso Senza in realtà un motivo per esserlo Nel senso che se andiamo a comprendere come andarlo a fare E ti mostrerò in questo video qua anche la versione se vogliamo più avanzata Può essere un ottimo strumento sia in palestra che per tutti coloro che si allenino a casa E per parlare di questa tematica dobbiamo ricordarci come si è costituito il tricipite e come si possa andare ad allenare bene Il tricipite come dice il nome è composto da tre parti Abbiamo il capo laterale e il capo mediale che sono due parti che lavorano sempre in qualsiasi esercizio E che sono anche le due parti che vengono coinvolte in qualsiasi esercizio di spinta per il petto o per le spalle E poi abbiamo il capo lungo che è biarticolare e che richiede un po' di accorgimenti Nel senso che abbiamo visto che a differenza del capo laterale il capo mediale non viene sempre lavorato E per riuscirlo a lavorare bene a differenza di quanto molti cazzari online possano andare a dire Noi vogliamo i gomiti attaccati al corpo o dietro il corpo Noi li vogliamo andare a portare in avanti rispetto al corpo o sopra la testa Cosa significa questo? Significa che se ti alleni per esempio in palestra e puoi fare un push down O magari se ti alleni a casa e hai un cavo Un push down eseguito in questo modo qua dove il braccio è allineato al corpo è perfetto Oppure lo vai a fare con una corda con la corda così è perfetto Oppure lo vai a fare a braccio singolo per qualsiasi motivo perché sai che andare ad allenare un muscolo unilateralmente Ti può permettere di reclutare più unità motori e attivare più fibre muscolari Ecco in questo modo qua il braccio è attaccato al corpo e è perfetto Ai due cavi ti puoi andare a fare un cross cable extension come si vede in questo modo qua Porti i gomiti indietro rispetto al corpo e vai a muovere solo l'avambraccio Questi sono tutti esercizi ottimali per il capo lungo perché la parte alta del braccio è attaccata al corpo dietro il corpo A differenza di ciò invece se noi andiamo a farci per esempio delle estensioni sopra la testa Come si vede in questo caso qua uno skull crusher Ecco in questo caso qua il capo laterale e il capo mediale saranno i muscoli principali Poi non è che proprio il capo lungo non lavora Non lavora in modo tale da essere stimolato in modo ottimale Capo laterale e capo mediale invece lavorano sempre negli esercizi per il capo lungo Questo è importante Tra l'altro non mi sono ancora presentato Ciao a piacere il mio nome è Dardo Baldini Questo è il mio canale Sono qua dal lontano 2016 E ho sempre affrontato l'allenamento dal punto di vista scientifico Quindi non perché qualcosa piacesse a me o perché andassi in giro Non comprendendo le informazioni e andando a riportare le informazioni datate Come invece fanno molte persone che stanno riportando le informazioni vecchie Che io andavo a dire due anni fa e che adesso non sono più valide No qui non funziona in questo modo Qui se le informazioni cambiano io domani faccio un nuovo video E se non sei iscritto hai già compreso di che livello di informazioni stiamo parlando Quindi se ti iscrivi così non ti perdi nessun video E rimani sempre al passo con i tempi Non come molti personal trainer là fuori E ecco è importante anche andare a dire cosa Che in un esercizio per i tricipiti In realtà per esempio prendiamoci un push down Non è necessario andare a salire oltre i 90 gradi Dove con 90 gradi intendiamo Quando l'avambraccio forma con la parte alta del braccio Un angolo a 90 gradi Ecco non è necessario andare a salire completamente Fino a fare arrivare l'avambraccio al bicipite Lo vuoi fare sei libero di andarlo a fare Ma non c'è tutta questa necessità E per allenare bene i tricipiti tu potresti benissimo Rimanere ok se vai un pochino sopra i 90 gradi non è un problema Però non è neanche necessario Quindi sopra leggermente i 90 gradi e poi stendi Non è necessario andare ulteriormente Questo perché ci tengo a dirlo Perché molte persone pensano che un maggior rom sia sempre la via ottimale In realtà no Noi vogliamo il rom giusto per andare a stimolare il muscolo La parte del muscolo che ci interessa È la stessa cosa che abbiamo visto quando abbiamo parlato per esempio del dorsale Dove quando vogliamo andare ad allenarlo con un'impugnatura Prona sul piano frontale o sul piano scapolare Quindi con i gomiti aperti Se andiamo a farci per esempio una latta machine Vogliamo andare a prendere l'impugnatura molto larga Andando a prendere l'impugnatura molto larga Ridurremo il rom che è una cosa buona Lasciandoci la parte buona per le fibre basse del dorsale In questo modo qua noi non abbiamo il rom più ampio Abbiamo il rom più ampio giusto per le fibre basse del dorsale Questo è molto importante E fra l'altro se sei qua e ti ritrovi ad allenarti con delle schedine sfigate Bruttarelle come tipo queste qui con le immaginine per i bambini O addirittura senza neanche le immagini E tutte le settimane fai la stessa identica cosa Senza una progressione Senza una spiegazione di un esercizio Questa è spazzatura Non la cartoccio semplicemente perché ho rispetto della carta Ma questa è da buttare via Se ti vuoi allenare bene Ho creato un pacchetto che ad oggi conta 37 programmi di allenamento Che non sono schedine Sono programmi che ti dicono di settimana in settimana cosa andare a fare Ti danno il numero di serie, il numero di petizioni, il tempo di recupero E ogni programma sotto l'esercizio ha un link che ti riporta al proprio video tutorial Infatti accederai ad oltre 350 video tutorial in continuo aggiornamento Hai un supporto con me a vita Paghi una volta e tu tra 5 anni mi scrivi e ti rispondo Così come chi è entrato nel 2018 Sono passati 6 anni e mi continuo a fare le domande Pagando solo una volta E attenzione ti puoi prendere anche un singolo programma di allenamento Ci sono programmi monofrequenza, multifrequenza per tutte le necessità Per esempio ti puoi prendere braccia dure a volume 2.0 Con un programma che ti fa allenare tutto il corpo Ma si concentra sulle braccia e come vedi non è una schedina sfigata Sono 100 e passa pagina Lo provi, ti piace, ottieni soprattutto risultati E poi ti fai l'upgrade all'intero pacchetto pagando solo la differenza E novità Se sei stato fregato da un personal trainer con una scheda sfigata Che ti ha fatto pagare Non ti preoccupare Scrivi a questi riferimenti qua Numero whatsapp ed email Che potete scrivere sempre quando avete delle domande sui miei percorsi Gli iscrivete Gli inviate la ricevuta Chiaramente con massima riservatezza Della scheda che hai pagato E ti faccio accedere ad uno o qualsiasi dei miei programmi A meno di un costo del tramezzino all'autogrella E attenzione Avrai il mio supporto a vita Anche dopo che hai finito il programma Giù in descrizione e nei commenti E ecco Qual è questo esercizio disdegnato Deriso Senza in realtà un chiaro motivo per cui dovrebbe esserlo È il kickback con il manubrio Kickback eseguito chiaramente per il tricipito E questo è un esercizio che viene disdegnato Perché normalmente viene detto Ah ma il ROM è piccolino Non hai un full ROM Come invece avresti con il cavo Attenzione noi come abbiamo detto Non è necessario andare oltre 90 gradi Di quando l'avabbraccio forma con il bicipite Un angolo a 90 gradi Quindi in realtà Io quando ho il braccio E poi vado a distenderlo Il ROM è corretto Tu mi potresti dire Edo ma io se mi vado a fare Un kickback al cavo Ora attenzione Se vedo fare a qualcuno Che segue il mio canale O se ti conosco Un kickback al cavo Con il busto piegato a 90 gradi A pecorina Ti tolgo il saluto Perché? Perché andando a fare piegato È instabile È scomodo Quando tu semplicemente Sai cosa potresti andare a fare? Metti la carucola in alto Ti tieni con la mano opposta E vai a fare questo Questo è esattamente Un kickback Ma fatto in modo intelligente Perché sei in piedi Io lo so che questa roba qua Non ve la spiegano in palestra Per questo devi seguire il canale Tu ti vai a fare il kickback Che non è altro che un pushdown Al cavo Perché il profilo di resistenza È sempre lo stesso È sempre praticamente A 90 gradi Quando l'avambraccio Forma con la parte alta del braccio Un angolo a 90 gradi Ma il profilo di resistenza È differente Rispetto al kickback Con il manubrio E adesso ti spiego Se tu ti vai a fare Un pushdown Che come abbiamo detto Che non è nient'altro Che un kickback Al cavo Fatto in modo intelligente Perché è esattamente La stessa cosa Ma è solo più comodo Praticamente tu hai La massima resistenza A 90 gradi E poi mano a mano Che vai a contrarre La resistenza diminuisce In un kickback Con il manubrio Cosa succede? Mano a mano Che tu vai in contrazione La resistenza diventa massima Quindi in uno Hai una resistenza A metà del movimento Nell'altro In massima contrazione Quindi non è esattamente La stessa cosa Però non è questo L'argomento Ok? Una persona mi potrebbe dire Ah ma quello è un esercizio stupido Perché quando lo vai a fare Senti dolore alle spalle Senti veramente Tanta tensione alle spalle Il deltonio posteriore Deve lavorare tanto Per rimanere in posizione E questo Se vogliamo È vero Infatti questo video qua Ti serve Per potenziarlo Infatti è uscito Un nuovo aggiornamento Di video tutorial Tutti i membri Anche quelli che hanno Un programma singolo L'hanno ricevuto Quindi se sei membri Vattelo a vedere Dove praticamente Noi cosa andiamo a fare? Per evitare questo problema Quindi per evitare Questo maggior bisogno Di altri muscoli Di lavorare Affinché noi possiamo Andare a lavorare Il tricipite Cosa andiamo a fare? Andiamo a trovare Un sostegno Che potrebbe per esempio Essere un qualsiasi cosa Di gommato Se te l'hai a casa Potrebbe essere anche un divano Puoi testare Qualsiasi cosa Che ti permetta Di appoggiare La spalla sopra Di più richiedere Il supporto da parte Della spalla Per eseguire l'esercizio E dopodiché Non dovrei semplicemente Andare a fare altro Che andare ad estendere Il braccio Con molto meno Lavoro da parte della spalla Anzi praticamente niente E così diventa Un esercizio ottimale Che anche per tutte Quelle persone Che quando andavano A eseguire Il kickback Con il manubrio Che per esempio Si trova di nuovo Nei programmi di scienza dura Per la casa Una persona diceva Ah sento il dolore al gomito In questa variante qua Si accorgerai Che il gomito Ti farà anche meno male O non ti farà proprio male Quindi non ti resta Che andarlo a provare Attenzione Qui alcune persone Potrebbero dire Edo Ma qui cosa lavora Se hai compreso La spiegazione di prima In un esercizio Come vedi in questo caso qua Lavora tutto Capo laterale Capo mediale E si anche il capo lungo Perché il braccio È allineato al corpo Attenzione Una cosa importante Siccome in questo caso qua Il picco di resistenza Quindi quando l'esercizio È il più duro possibile È in contrazione Il massimo lavoro Verrà svolto Dal capo laterale E il capo mediale Perché entrambi Riescono a produrre La massima forza Quando l'esercizio È più duro in contrazione Ma anche il capo lungo Lavorerà Quindi è un esercizio Completo per tutti Anche il capo lungo Lavora Vero che il capo laterale Il capo mediale In questo caso qua Hanno un maggior lavoro Ma non è come Uno school crash Dove il capo lungo Possiamo dire Non lavora E il capo laterale E il capo mediale Sì In un kickback Con il manubrio Lavora tutto Poi se tu mi dici Edo Ma se io mi potessi Andare a fare Un push down Che come abbiamo detto È un kickback Corretto Al cavo Dove la massima resistenza È a metà del movimento Ecco in quel caso Avremo un maggior lavoro Il capo lungo Rispetto al capo laterale Il capo mediale Anche se lavoreranno Sempre tutti Ma questo perché Ci può interessare Perché quando una persona Si allena a casa E magari non ha Tanta attrezzatura Magari non ha un modo Di mettere un elastico in alto Magari non ha un cavo Ecco Andare ad allenare Il capo lungo Non ha molte altre opzioni E questa opzione qua È ottima Con questa versione avanzata Andando ad appoggiare la spalla È ancora meglio Oltre a ciò C'è anche da dire Che è un esercizio a braccio singolo Che ci permette Di andare a reclutare Più unità motorie Rispetto ad andare a fare L'esercizio con entrambe le braccia Quindi abbiamo un maggior stimolo È un esercizio stabile Per di più Quindi significa che Come abbiamo già visto In altri video Più un esercizio è stabile Meglio è Perché ci sono meno variabili Che ci fanno accumulare Meno fatica E ci permettono di reclutare Più unità motorie Quindi attivare Più fibre muscolari E quindi hai capito Che non c'è niente da prendere In giro Del kickback con i manubri Se chiaramente Lo vai ad eseguire nel modo corretto E mantieni sempre Il braccio allineato al corpo E quindi non fai muovere Il gomito in avanti e indietro La parte alta del braccio Rimane attaccata sempre al corpo E vai a muovere Solo l'avambraccio E se una persona Ti dovesse dire Eh no ma quello Il rom non è corretto No il rom è perfetto Perché va dai 90 Fino al momento Di massima contrazione Che è proprio dove Dovereste andare a lavorare Il tricipite Sia che si parli Di capolungo Di capolaterale E di capomediale Quindi non ha per niente senso Andarlo a prendere in giro Perché ha perfettamente senso Dovete andare a prendere in giro Tutti gli esercizi Che invece non hanno senso Che molte persone invece vanno a dare Di nuovo Se ti vuoi allenare In palestra a casa E vuoi smettere di seguire Queste schedine sfigate C'è scienza dura Come dicevo Ci sono programmi Per tutte le necessità Come dicevo C'è la possibilità Di rottamare Il programma La scheda Che hai pagato Da qualsiasi altra persona Che non ti ha portato risultati Sei stufo Non ti preoccupare Scrivi a questi riferimenti qua Ti risponderà Alessandro e Maddalena Ti aiuteranno a selezionare Il programma giusto Ti rottameranno Se avete delle domande Scrivete a loro I programmi sono completi Sono cento e passa pagine Con tutto quello che ti serve È una roba che non hai mai trovato Se sei abituato A prendere le schede Gratuite in palestra O a pagare I personal training sfigati Che magari ti sono capitati Fino ad oggi Qui non funziona in questo modo Il mio supporto è a vita Anche prendendoti Un singolo programma Di allenamento Che ti costa meno Di andarti A comprare un chilo di proteine O una pizza fuori Per chi vuole C'è anche la possibilità Di ricevere un programma Di allenamento personalizzato Basta sempre iscrivere A questi riferimenti qua E ve ne hanno dati Tutte le informazioni Il link di Ascienza Dura Lo lascio giù in descrizione Nei commenti Noi come sempre Ci vediamo tutti i giorni all'una Buon allenamento a tutti Ciao a tutti Peace